Il Palermo in Serie A Posavec, riporteremo il Palermo in Serie A Ant Create City? Think Free World Prestemesa & Plugins. Penso di aver fatto l'anno scorso diverse cose positive. Era la mia prima stagione in Serie A, sono cresciuto. . Abbiamo entusiasmo, spero che tutti insieme riusciremo a riportare il Palermo dove merita di stare. Così, in conferenza stampa, dal ritiro di Bedklenkirceim, il portiere del Palermo Josip Posavec. . Gli errori? Sono un uomo, tutti possono sbagliare. Ma ormai è il passato, siamo in B Pensiamo a tornare dove meritiamo. Faccio questo lavoro da dieci anni, bisogna farsi trovare pronti ogni giorno in allenamento o in partita, ha aggiunto Posavec. . Voglio dare il meglio di me per aiutare il Palermo e i miei compagni. Nestorovski sta bene, è molto importante per noi. . Con i suoi gol possiamo raggiungere la promozione. Con mister Lenisa e mister Sicignano posso crescere ancora di più, abbiamo un rapporto bellissimo. Questo può aiutare, spiegato il portiere Rosanero. Sono giovane, non posso dire di sapere Gia tutto. . Se dovesse arrivare qualcuno per farmi crescere ancora sarai felice. Voglio ringraziare Mr Tedino, mi sta aiutando molto. E una persona molto buona, ha concluso Posavec. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps. . 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